Ciao a tutti, io sono Umberto Sartori, titolare di T-Bow Design. A 63 anni suonati, mi è tornata una passione di quando ero ragazzo, la lavorazione dei metalli, la produzione di gioielli in metallo. Mi è tornata perché ho scoperto un materiale veramente straordinario, il titanio, che mi permette di unire le due grandi passioni artistiche e la mia vita, cioè l'oreficeria, o meglio la lavorazione dei metalli, e la pittura. Il titanio, infatti, con trattamenti termici o chimici, può assumere colori, detti di interferenza, veramente stupendi, veramente più affascinanti di quelli che io sia mai riuscito a ottenere con i pigmenti su una tela o su una tavola di legno. Questi sono alcuni esempi dei filmati e delle immagini che troverete sul canale T-Bow, immagini di gioielli, ma anche dei procedimenti per crearli. Acquistando un prodotto T-Bow, entrate in possesso di un gioiello molto esclusivo, realizzato a mano in unica copia a Venezia. Un gioiello veramente d'avanguardia, sia dal punto di vista estetico che tecnico. Un gioiello robusto e leggerissimo, vestito dei colori dell'arcobaleno. Grazie per l'attenzione che avete voluto dedicarmi. Vi invito caldamente a sottoscrivere questo canale, che vi permetterà di essere aggiornati su tutte le nuove produzioni di T-Bow Design. Pubblico nuovi filmati, ogni qualvolta ho nuovi modelli da mostrare, e questo spesso accade più volte in una settimana. Vi invito anche a visitare il mio sito T-Bow Design, dove, spero, potrete diventare i miei clienti soddisfatti. Grazie a tutti e arrivederci su T-Bow Channel.